Edizione Flash d'inizio settimana del Tg di Aquiterme, un benvenuto ai nostri ascoltatori e partiamo subito dalla cronaca. I carabinieri della compagnia di Aquiterme sono ancora impegnati a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente avvenuto domenica mattina a Rocca Grimalda, in cui a restare gravemente ferito è stato un ciclista diciottenne. Il ragazzo stava partecipando alla manifestazione ciclistica Ovada in Randonet, da poco partito per il percorso di circa 200 chilometri tra le colline dell'Ovadese stava pedalando in direzione Predosa quando è stato travolto frontalmente da una Ford Focus che viaggiava in direzione Ovada e stando al racconto della donna al volante avrebbe invaso la corsia opposta per evitare un capriolo. Subito soccorso il giovane ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria, al momento è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Accensione anticipata dei riscaldamenti ad Acqui consentite dall'amministrazione comunale, gli impianti resteranno accesi per un massimo di 4 ore al giorno, partirà invece dal 15 ottobre la normale attivazione per 14 ore giornaliere. Col 1 ottobre è iniziata la raccolta differenziata da Acquiterme e sarà sperimentale nei primi tre mesi di adozione mentre entrerà in vigore a scaglioni a seconda delle zone contraddistinte da diversi colori nei calendari di raccolta che sono stati distribuiti a tutte le famiglie. Da lunedì 8 ottobre parte anche il servizio Ecobus per il conferimento dei rifiuti urbani, carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, umido e secco non riciclabile. Ecobus effettuerà le fermate negli orari indicati nel calendario e nasce dall'esigenza di poter conferire i rifiuti nella fascia oraria pomeridiana e serale, in aggiunta alla raccolta domiciliare porta a porta. Villa Igea parlerà Bergamasco. La struttura sanitaria quese passa al gruppo Lombardo Abilita che gestisce già un centro analogo nel Novarese. Villa Igea conta ad oggi 170 dipendenti e un centinaio di medici e anche di fama nazionale. Abilita si posiziona così tra i primi 15 gruppi del settore ospedaliero arrivando ad offrire 400 posti letto complessivi con un fatturato di 80 milioni annui. È il 20 ottobre la data prescelta per l'inaugurazione ufficiale del rinnovato plesso scolastico di Cassine dopo le opere di ristrutturazione completate negli ultimi anni. La scuola sarà presentata in concomitanza con il fine settimana dedicato alla festa di Sant'Urbano. Il Vescovo di Aleppo sarà ad Acqui in occasione dell'incontro Siria Specchio dell'Umanità organizzato dalla Caritas Diocesana mercoledì 10 ottobre alle 21 presso il Salone del Ricre di Acqui. Monsignor Antoine Audu è Vescovo Caldeo di Aleppo e della Siria oltre che Presidente della Caritas Siriana. Il primo concorso fotografico dedicato alle donne che volano alto. A promuoverlo è il Centro di Ascolto Acquiterme Onlus con la cooperativa sociale Impressioni Grafiche Onlus e il sostegno di Soroptimis Acquiterme. I fotografi sono lasciati liberi di interpretare a seconda della loro sensibilità l'argomento. Le donne che non si arrendono, che lottano, che reagiscono, che amano e che si amano. Il concorso è aperto a tutti, è ammesso l'uso di qualsiasi dispositivo digitale e ogni partecipante può inviare 5 scatti. Sarà possibile inviare le foto fino al 29 ottobre prossimo e per informazioni si può scrivere all'indirizzo mail editoria-impressionigrafiche.it Nel campionato di promozione sorride l'Aqui che supera il San Giacomo Chieri per 3-1. I ragazzi di Mister Merlo risolvono tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata sull'1-1 contro un avversario tenace soprattutto in fase offensiva. Protagonista del match, il sedicenne Arresca, autore di una doppietta. Innocenti è invece l'autore della terza rete. Ricucito dunque il gap in classifica, l'Aqui sembra definitivamente essersi ripreso dopo il difficile avvio di stagione.